Intanto non si capisce a che titolo il Presidente della Repubblica attacchi il partito più votato alle ultime elezioni in Italia, cioè il Movimento 5 Stelle, che è il principale se non l'unico partito di opposizione. Lo faceva Cossiga e infatti il PDS, il partito di Napolitano, chiese per lui l'impeachment. Figuriamoci se Napolitano avesse detto qualcosa del genere o anche di meno duro nei confronti del PDL e cosa sarebbe successo. Io credo che il Presidente debba rassegnarsi, lui non è il re sole, è il Presidente di una Repubblica parlamentare dove c'è il diritto e a volte anche il dovere del dissenso. Per quanto riguarda poi la sua proposta di amnistia e di indulto è una bugia che non si applichino a Berlusconi. L'indulto di tre anni come quello proposto ieri da Napolitano è uguale all'indulto del 2006 che era esteso a tutti i reati per i quali Berlusconi è stato condannato o è attualmente imputato, dalla frode fiscale alla prostituzione minorile, alla concussione, all'induzione alla falsa testimonianza, alla corruzione, alla corruzione giudiziaria e quindi non si vede di che cosa stiamo parlando, naturalmente riguarderebbe anche un sacco di altri delinquenti. Nel 2006 l'indulto di tre anni fece uscire di galera quasi 30 mila criminali che per un terzo tornarono a delinquere e furono riacciuffati e quindi chi è che se ne frega del Paese? Io credo che i primi a fregarsene del Paese sono proprio quelli che vogliono riversare sui cittadini il costo dell'incapacità della politica a risolvere altrimenti il problema delle carceri, danneggiandoli, creando nuove vittime e mettendo in circolazione ancora più gente pericolosa di quella che già non circola oggi. Ma trovo ridicole le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica che peraltro diciamo sul tema delle carceri, della sofferenza e della tragedia che si viene alle carceri fa una battaglia da tempo, da molto prima che fosse Presidente della Repubblica, lo rimacordo da una manifestazione che fu organizzata proprio per l'amnistia per aggredire questo problema. Peraltro solo chi è fuori dal mondo non si rende conto di quale sia il dramma che stanno vivendo in questo momento, le carceri, i carcerati e anche il sistema giudiziario. Cosa dire a Napolitano che richiama ancora una volta la politica a fare quello che deve fare? Non è che Napolitano ha fatto l'amnistia, ha detto chiaramente a noi, alla politica di intervenire, ha suggerito una strada e io mi auguro che anche quelli che sono molto timidi, forse troppo timidi nel centro-sinistra invece colgano quest'occasione per fare finalmente qualcosa di positivo.